Comentiamo questa bella vittoria al tie-break del Vole Soverato contro un'ottima squadra come Cuneo con Capitan Donau, una reazione di carattere, una vittoria di carattere, direi per un Soverato che vince in rimonta e coglie due punti importanti. Sicuramente è una grande partita, un grande cuore ha messo questa squadra oggi. Personalmente aspettavo questa partita dal girone d'andata perché comunque lì a Cuneo avevamo perso facendo comunque un'ottima partita e quindi secondo me era giusto che ci prendessimo i punti che non abbiamo preso all'andata. Un 3-2 tirato contro un'ottima squadra ma anche noi abbiamo dimostrato di avere gli attributi. Una partita dai diversi spunti tecnici perché sappiamo che da una parte e dall'altra in settimana ci sono stati anche cambi a livello di roster e quindi era una partita con diversi punti interrogativi perché sia da un lato che dall'altro c'erano giocatori nuovi e quindi bisognava preparare una partita anche dal punto di vista tattico più difficile rispetto al solito. Certo, più o meno lo sapevamo chi c'era dall'altra parte perché comunque con l'innesto di Guidi e di Giorgia sapevamo che avrebbero giocato però insomma non è facile. Noi per fortuna adesso siamo finalmente con due palleggiatori e abbiamo tante soluzioni in più, è arrivata anche Giada che ci sta dando una grossa mano quindi adesso la squadra è al completo e adesso possiamo veramente divertirci di più. Anche in allenamento è importante perché Alice è stata bravissima in questo mese e mezzo comunque a tirare avanti da sola la carretta e non potendo mai permettersi uno stop o comunque anche di rifiattare l'allenamento perché comunque doveva andare da una parte all'altra a palleggiare. Quindi adesso siamo tutte con due palleggiatori e riusciremo sicuramente a fare tante belle cose. Possiamo dire che probabilmente il turno di riposo del Valle Soverato che sarà domenica prossima arriva al momento giusto per ricaricare le batterie dal punto di vista psicofisico ma anche per far inserire le nuove al meglio. Sicuramente perché è importante che anche Natalia e Giada comunque olino i meccanismi e se pensiamo che comunque Natalia ha fatto due allenamenti con noi, sai anche tu l'importanza che ha comunque il palleggiatore nel gioco di squadra e anche trovare il feeling con gli attaccanti per la velocità della palla eccetera. Giada è uguale, si sta integrando benissimo però è ovvio che bisogna mettere a posto tante cose di competenze tra ricettori. Abbiamo molto tempo adesso per fortuna con questa pausa di lavorare tanto e lavorare bene e sono molto fiduciosa. Coach Barbieri, una bella ed importante vittoria al tiebreak per il Soverato contro un'ottima squadra come Cuneo, era una partita difficile, era il big match della sesta giornata e così è stato perché si è potuto assistere ad una bella palla a volo quindi una soddisfazione ancora maggiore per il Valle Soverato. Sì, certamente, abbiamo sia io che le ragazze che tutto lo staff una dedica particolare, una bambina che è venuta a mancare, una ragazza di Borgia che abbiamo conosciuto tante persone in questo periodo, è una ragazza che ha 14 anni e è morta di leucemia in settimana. Ecco, vorrei dedicarlo a lei ma oltre a quello, per fare un appello, sapere quanto è costante la ricerca, donare il midollo osso, però ne abbiamo parlato in settimana e insomma ci ha toccato un attimino e volevamo dedicare a lei questa vittoria. Per quanto riguarda il match, sicuramente è stata, a mio avviso, una partita molto bella sotto l'aspetto mentale, a livello intensivo. C'è stato un bel agonismo dove veramente entrambe le squadre hanno prevalso con uno spirito molto combattivo. Questo è quello che è andato bene. Noi, diciamo, siamo cresciuti sicuramente in seconda linea, ci stavamo lavorando, ci stiamo lavorando, in seconda linea vuol dire la battuta, difesa. Oggi veramente non abbiamo mollato sulle azioni prolungate, siamo stati ordinati, perciò questo lavoro che stiamo facendo con le ragazze sta pagando e sono contento. Ad un certo punto si è avuta l'impressione sul finire del quarto sette, anche nel tiebreak c'è stata qualche variazione tattica sulla ricezione, sembrava a volte di ricevere a due anziché a tre per dare anche un po' di fiata ad Alexa Gray che in alcuni frangenti del match è stata in difficoltà in quel fondamentale. Sì, adesso con questo nuovo assetto, con l'arrivo di Giada, gli avversari battono solo esclusivamente sulla Gray, prima erano un po', era diverso. E logicamente lei ha un peso di lavoro enorme, giocando con Taborelli può ogni tanto ricevere, alcune volte Taborelli ci dà una mano in recezione, ci ha permesso di uscire dalle situazioni dove magari prima ci incartavamo su una rotazione e perdevamo tre o quattro punti. Oggi si è visto che al massimo, anche su Segura, che abbiamo studiato la sua battuta, che all'andata ci aveva scavato un paio di solchi, l'abbiamo tenuta bene, anche cambiando un attimino il tipo di linea dei recettori e sono contento. Veronica oggi ha fatto una grande partita, perciò è una che ha lavorato sempre duramente, abbiamo parlato anche in settimana con questo nuovo assetto, gli ho detto che ha sempre lavorato molto duro, vedrai che i momenti possono arrivare per tutti, oggi è arrivato per lei. Infine un giudizio anche sulla neopalleggiatrice Natalia Gajewska, arrivata praticamente da due giorni, però sembra si sia inserita benissimo perché ha giocato praticamente gran parte del match con buoni risultati. Sì, sì, è una ragazza che abbiamo visto giocare, abbiamo visto alcuni video, poi ho la fortuna di aver avuto qualche ex giocatrice polacca, mi hanno parlato di lei, è una ragazza molto interessante, molto interessante perché oggi penso che abbia sofferto un po' la tensione, è arrivata da due giorni in un mondo diverso, però ha qualità, è una ragazza che ha qualità, è molto giovane e perciò vedrete che ci darà una grossa mano per il futuro. Coach Andrea Pistola torna a Soverato, questa volta alla guida dell'Ubibanca San Bernardo Cuneo, raccoglie un punto la sua squadra, perde al tie-break, una partita combattuta come da previsioni, tra due squadre comunque importanti e protagoniste di questo campionato. Sì, è stata una partita molto intensa, magari non giocata sempre benissimo in entrambe le squadre, noi soprattutto abbiamo commesso tanti errori, abbiamo fatto 19 errori in attacco che sono veramente troppi per poter portare a casa la partita e quindi ecco, ci sono alcune cose su cui lavorare, abbiamo iniziato un nuovo percorso da una settimana, alcune ragazze sono arrivate in corso d'opera in questi giorni, quindi dobbiamo mettere un po' a posto alcuni meccanismi, comunque siamo fiduciosi. Ecco, per via degli infortuni siete dovuti ricorrere al mercato, nuovo libero proprio arrivato da Soverato, Ludovica Guidi è arrivata da pochissimi giorni al centro, al posto di Bertone, quindi ci sarà da lavorare anche per lei, però diciamo che già come prima partita, dopo pochi giorni, si sono inserite abbastanza bene le nuove. Sì, sì, hanno fatto una discreta partita, ovvio che comunque rispetto a una squadra che in questo punto del campionato dovrebbe essere già rodata e avere meccanismi che funzionano, alcune cose sono state poco provate, comunque necessitano di più tempo, però direi che a tratti abbiamo fatto delle ottime cose, in alcuni momenti sicuramente dobbiamo rivedere un po' tutta la gestione e alcuni fondamentali che in certi momenti della partita sono stati deficitari. Lei praticamente sulla panchina di Cuneo da due settimane era nella prima parte di stagione in A1 a Legnano, un giudizio su questo campionato di A2 che ogni settimana si rimostra essere sempre più avvincente? Non l'ho seguito molto, devo dire la verità, insomma, ho visto questa partita e quella precedente e devo dire che è il solito campionato molto equilibrato dove ci sono tante squadre comunque ben attrezzate, probabilmente il tour de force delle partite ravvicinate ha permesso di avere un equilibrio ancora maggiore e quindi la classifica è sempre molto corta e ogni partita riserva tante sorprese, nonostante ci siano valori importanti in campo si può rischiare di perdere con chiunque e come vince con chiunque. Giorgio Cafforio, in una situazione un po' per certi versi surreale perché il volley mercato, gli scherzi del calendario si è messo un po' di tutto in questa settimana, nel senso che sabato scorso eri assoverato, oggi torni per l'esordio con Cuneo, assoverato d'avversario. Innanzitutto le sensazioni perché veramente forse è molto singolare questa coincidenza di eventi. Sì, è stata una cosa strana per me ritornare qui anche se per me soverato rimane casa, quindi era come tornare a casa, non vedevo l'ora di rivedere tutte le persone che mi vogliono bene e tutte le mie compagnie di squadra, era una partita importante e lo sapevamo, a prescindere da me che tornavo qui dopo una settimana, è stato strano però devo dire che ero abbastanza tranquilla. Una partita combattuta come da previsione, era il big match della sesta giornata, la soverato Cuneo alla fine ha vinto soverato al tiebreak, per voi un punto, c'è sicuramente da lavorare, come ha detto coach Pistola pure perché si è inserita anche Ludovica Guidi in questi giorni, però insomma il campionato è lungo, c'è margine per tante squadre visto che in vetta la lotta è serrata. Sì, abbiamo lavorato tutta questa settimana per integrarci, e le compagne sono state favolose perché ci hanno fatto sentire subito il nostro agio. Non era facile trovare subito i ritmi con due nuovi innesti, però abbiamo dimostrato di poter lavorare bene insieme. Dobbiamo ancora migliorare delle cose, però faccio complimenti a loro e anche a noi perché non era facile. Grazie a tutti.